ciao a tutti ragazzi lasciate un like solo prima cosa giochiamo a fortnite quindi so che io sono scarso quindi lo sapete tutti adesso adesso che accendo la play lo sentite vedete adesso finisco il video un bacio a steppe che mi potete regalare qualcosa per favore io sono molto scarso ho 7 personaggi e poche cose